Buongiorno, il messaggio di oggi è cibo puro. Fornendo al corpo un cibo puro, sano e biologico, aumenti i livelli di energia e di concentrazione. Ciò porta automaticamente a essere più efficiente, ad avere idee brillanti e una vibrazione più alta che attrae opportunità preziose e relazioni benefiche. Gli angeli dell'abbondanza ti hanno mostrato questa carta per ricordarti l'importanza di nutrire mente e corpo con cibo dall'energia pulita, cioè alimenti non trattati e privi di sostanze chimiche, naturali e biologiche. Mangiare in modo sano fa reagire pensieri e muscoli con velocità, precisione e positività. Inoltre ci aiuta a dormire bene, imparare bene e vivere bene. Forse credi che ti serva più denaro prima di permetterti il lusso di un cibo puro e biologico. È vero il contrario. Prima ti prendi cura di te stesso con un'alimentazione sana, poi la tua energia e la tua concentrazione salgono a una vibrazione più alta e alla fine la tua produttività aumenta. Le tue idee sono migliori e sempre più brillanti nel manifestare i tuoi bisogni. Il cibo biologico aiuta anche a proteggere l'ambiente. È stato dimostrato che i pesticidi e fertilizzanti artificiali impiegati nella moderna agricoltura hanno effetti negativi sul modo di pensare e sul benessere emotivo delle persone. Proteggendoci dalle tossine ci assicuriamo di manifestare solo le cose che sono per il nostro bene supremo. La scelta di investire in cibo sano avrà un'influenza diretta sulla tua abbondanza perché migliorerà la tua salute, produttività e capacità di risolvere i problemi. Ti ammalerai di meno, recupererai più in fretta dopo l'esercizio fisico e riuscirai a superare qualsiasi ostacolo ti si presenti sul lavoro. Questo è il messaggio di oggi per augurarvi una serena giornata.